Anna Jarvan, la sua punta, la sua forza, la sua cacca Il suo io Il suo è Questa è stata una bella partita se posso dirlo È stata veramente Veramente Mette il buffo a rire in sole Ma io lo vorrei che abbaffato questo personaggio Perché non lo vuoi abbaffare? No, dobbiamo abbaffare i carri Va bene Ma io penso che mi faccio l'ultima, mi sa Che dite? No, sì Questa è l'olio Basta Cioè Già ho fatto un paio di rank e le ho fatte oggi Pagliare queste partite qui, bastano e avanzano Devo prendere il basiso Devo pratinare le cateclank 3 Basta prendere tutti i trofei e il bulmoni d'oro Eh, portare anche tutte le armi al massimo Tutti i punti steal Devo sparare le armi Marco che cos'hai detto? Quello che ha detto Quello che ha detto, giusto? Sì, per pratinare il gioco Basta prendere tutti i trofei Eh, ma che ci sono i trofei in quel gioco, vedi? No, sono le coppie Sono trofei, vedi come trofei? La statuetta di rank, le statuette dai Basta prendere tutti i trofei E perchè sono trofei quelli? Vengono chiamati trofei Comunque ci sono tutte le statuette Poi devo fare tutte le armi al massimo Comprarle tutte al massimo Trovare tutti i bolt Fare tutti i punti steal E la cosa più assurda è che devo fare anche 10 milioni di bolt Quindi sono giocando 4 milioni di bolt Beh, è facile 10 milioni 4 milioni di bolt li fai solamente con la sfida guardastica E con... che cazzo era l'altra cosa? Ci sono per comprare tutte le armi su per 10 milioni Eh, quello è il problema Il problema è che non devo comprare le armi perchè voglio arrivare subito a 10 milioni E poi comprarle tutte in una volta Io sono un pazzo curioso Eh, lo so Però così sarebbe più veloce il fatto di fare la cosa Sì, ma così non espi le armi Eh, questo è l'altra faccia della medaglia Però così... ma comunque si espanò velocemente le armi, Marco Ecco Ma il livello massimo è il livello 8, non mi ricordo 8 si Io ho fatto il paperizzator Mi basta quello per fare tutta la sfida quantistica Quartastica Quella era l'arma segreta Eh si Non sprechi munizioni Non basta con le valizioni Qui ai boss e le mazzi quelli con le armi Quelle dà C'era una sfida che mi ero in cui non ti devi far toccare Ero senza mafia Ero senza mafia Facilissima quella L'arena No, cioè Ero senza mafia Quello lì lo devi usare a colpi di chiave Non ti devi mai far toccare E' difficilissimo No dai non è tanto difficile No come tu era tipo un mezz'ora Ma che cazzo dici? Io mi ricordo che c'era una sfida che era tipo Ultimissima La quarta stica dai 100 round 100 round erano 100 round Fai conto che quella da 24 round l'ho fatta ora e ci impiego meno di 5 minuti Quindi La quarta stica che sono 100 round Quindi ci metti 11 minuti Si più o meno Si ma non ti porti a quartiere Ma dalla quartastica La quartastica stiamo parlando Della quartastica Della quartastica Della quartastica Ma che cazzo dite? Ero Ero senza mafia Ero senza mafia Infatti Perché devi solo usare la chiave Ti metti a lanciare la chiave una volta Si Ma quella più lunga Di attacchi di quelli che attacchano a distanza Quella più lunga comunque rimane la cosa Rimane la La quartastica Perché comunque ci sono 100 round da superare Quindi boss No comunque era bello Non riuscite a Clank 3 Almeno l'arena per me Era la parte migliore del gioco Infatti poi hanno fatto gladiator che è tutta arena E quello infatti gladiator del mio gioco lo è finito Però non hai? Clank dietro Vabbè ma Si infatti Mi piace mi piace Ogni? Ogni round Un roll Uno solo Si l'ho preso io o tu? L'ho preso io si Vabbè questo Ma non è vero Quante partite ti mancavano? Lo mancano ancora 80 giorni Non esagerare 10 partite Ma che cazzo Ci c'erano pure le missione Però tu non ce l'hai perchè non hai il pass Ma 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 cattici sto pass Già mai Apex Certo Apex si Questo no Basta Culla me lo sono ripagata Basta Anche questo te lo ripaghi No Vabbè Poi gli shop io un uovo a Marco Capito Un refresh Contento Marco E io non so che chi fare questo uovo che è deciso Vabbè sto comprando gli shop un uovo gli shop Per finire così Se ne parla per luglio ciao Per luglio Per luglio Oppure potrei fare gli stronzi Eh? Gli stronzi? Sì voglio fare gli stronzi Quanti sono gli stronzi devo valutare? Sì 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 Eh Sì 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 Facciamo così Usi Darkstar ma non potenzio Shaco Mh? La puoi rimettere tutti a Velcoz Non uso Velcoz io Che dico Kazix Non uso Kazix Sì 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 Find Ho capito che è Tiffany Mi piace Tiffany Tifa è molto bella Che diede? Che è? Non so di chi parlate Però E quella con le orecchie da gatto what the fuck Allora non mi piace Sì Grazie d'aro Non è di caso non accadre Di soldi sono importanti in questo gioco Questo che scrive Enzo Ma perché E gli sto spammando Madonna mia Sei un pezzo di merda Io so già cosa devo prendere 4 spade Anch'io io Oddio sei troppo Super Saiyan 4 quello Super Saiyan 4 oltre il mare Oltre il mare Maledetto Dario ti odio Io ho un sogno Io ho un sogno Vabbè Marco ci sono questi Tu prendi quella? Io voglio questa proprio Pezzo di merda Guardi il più vero bastardo Bastardo Me ne vado bastardo Perché ne hai fatto scusa Sono spattuto all'ultimato Mi piace come fanno Tu fuori Tu dentro Tu fuori Io ho un aiuto di Necco All'andare In questo server Non si fa Non si canta Quindi è l'ultima volta Che tu dico Dopodiché Dario ti dà un calcio Nelle palle Ti devi cagare sotto Esatto E non uno di quei calci normali Ma uno di quelli lì Alla Jackie Chan Esatto Sono quelli che non ti aspetti Madonna Michael Michael Jordan 2 Dai che culo Dai Dario ancora non ho nessuna combinazione Che fai per te? Abbraccio le cazziste Porco E vai Morde Frankenstein E vai Mordegrante Strand Oh vai Gervan Gervan al 2 Per la gioia di Marco Dubstep Strangere Sei contento Marco Che ho Gervan al 2? C'era pure Non ti dico Ma il mio è più bello Il mio è più bello Il mio Gervan si chiamava Saga Che cazzo significa? No Ma tu sei sempre Kate Ma che cazzo ha fatto l'abbonamento con Kate Kate online Madonna Il mio è Kate Tipo che è un personaggio livello 1 Ho capito ma sempre Ma me l'hanno buffata L'hanno fatta forti E ora è un god tipo Madonna Quelle Non conosco altri Cioè Oltre Kobe Bryant Che comunque è morto Quindi non ci diamo Conosco solo Michael Jordan Del basket Ho trovato Shaco ragazzi Ho evitato Io lo prendo Non so Marco Che mi stai odiando Lo so Lo so Io so tutto Savi Devi mettere Lei Ok Mi sa che perdi Perché ho resistito alla tentazione La Zigg se ce la fai da solo No Abbraccialo Che cazzo vuol dire La Zigg si abbracciano E purtroppo siccome ha delle formici A posto delle mani Li taglia se non può De mani ci provo a abbracciarmi E' un po' come 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 Non No Infatti Non esistono queste fiora Non esistono Ecco di tutti fiora accattano la fiora accattano la fiora accattano la fiora accattano la fiora una a prezzo di due ma è la sbraccione abbraccia più forte mi chiedo quanto mi manca il vecchio kajix era bello vedere come si incoglionina tutto per colpire i cristiani ma sciaco va dietro i cristiani e fa l'infame mentre quello proprio era bello era bellissimo infatti è una merda e tu che ne sapevi di rinpegno perchè mi ha fatto vedere era bellissimo kajix era bellissimo ciao gino ciao gino vabbè basta che me ne ammazzo in paio abbraccia ma non muore più quantissimo come funziona colpo del trago krebs ottimo lavoro bravissimi mi disse male qua piangendo non ti preoccupare l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato come scusa ma ora a questo livello quando sei un folle sei un folle cazzo disse freezer ma hai detto questo è quello lì sempre con shadow mamma mia cristo abbracciolo 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 non gli ho dato nessun potenziamento perchè ti arrabbi perchè hai vinto tanto ma non è vero se questo è imprevisato non è vero no vai di che mi hai ucciso non è scherzi ho vinto scusa quanto sei coglione vieni minchia di lì ho detto scusa ma sono tutto ce l'ho all'uno e poteva essere anche un infiltrato normale scusa per aver vinto che cazzo significa questo che dice scusa questo che dice scusa per aver vinto è bellissimo bastardo bastardo pezzo di merda con un eccesso pezzo di merda tutu tutu guarda questo qui è matto bastardo pezzo di merda io ho le lacrime in giù grazie adesso ho un altro dark star in campo bastardo un uomo di merda va iniziare a laggare proprio ma ma mi confermi la cosa mi confermi la cosa non capisco se rincoglioni da un certo punto è stato tu devi uscire fuori intanto che sei bravo diglielo diglielo se parli ancora ti butto fuori dal film bravissimo ottimo va bene io se l'oscura li ho finiti non potenziare lo sciaco così il nostro eroe Dario non si incazza abbraccialo figliolo abbraccialo no non lo faccio abbracciare rifiuta guarda quello shen ma quanto è cattivo quello shen che giù non voglio combattere contro di teore anche se ti ho sempre battuto finora quindi la fine però non cambia non mi cambia nulla però dai come la cazzate è la verità ragazzate esatto come scusi ma è la verità ti ho sempre battuto finora finora lo puoi dire con onestà si con verità sicuramente con non lo so qualcos'altro un po' un pisellaggile esatto chi è il mio avversario mister carmo wow wow ma tu sei ancora il 5 ma com'è possibile pure sono al 5 ma come non fai a non avere soldi che cazzo hai combinato io ho cercato nessuno manco io non sto cercando nessuno infatti ho tutti i soldi e sono al 7 vabbè andrei andrei a un momento di potenza e poi ho buttato tipo 10 monete per quelle 10 monete sono dietro a tutti dicevo andrei a un po' ma i reload gratis non lo sapranno infatti la cosa assurda è che hai pure l' reload gratis che cazzo di serve si ma ho te l'ho detto ho buttato tipo 10 monete e ora sono dietro a tutti e poi a parte il fatto che mi sono usciti tutti i personaggi che da potenziare dopo e quindi non si arriva a quello di me madonna ok so cosa devo prendere anch'io goku 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 e goku insieme abbedire faccio anche un reload tanto per aiutare Andrea nel suo delitto un delitto davanti Dio un delitto affermato ma non mi chiedi certo affermato si dice chiaramente facciate sullevate lo telo chi è il mio avversario minchia sono contro il che è il secondo mi devo scaricare il video perché metti in caso che lo levano mi hanno tolti un sacco dovevo scaricarlo appena me lo scarico e me lo metto da qualche parte scaricalo pure come si sa mai si va a fare una bambina ho trodo Xerath wow campioni campioni del cuore che Xerath sarà campioni del cuore che cazzo gli sei fatto sto team perché non lo poteva instillarmi a 9 ah wow addio Gino ma perché c'è il Darkstar? stai ingranando adesso il team che sto creando lo stai vedendo e sarà ancora più forte il mio team sarà ancora più forte non è un Darkstar è un Darkstar alla fine però è anche qualcosa di più di molto di più di più bello di più di quello che tu fai fanciullo Tufo sto creando Jarvan mi dispiace non volevo il Darkstar contro tutti chi sarà il mio prossimo sfidante? Creepy Diarrea si chiama questo che cazzo di nome vuol dire? ma perché tutti hanno Kade? tutti ce l'hanno a me è uscita l'ho preso e l'ho dato il coso Darkstar che dovevo fare madonna quel Kade e quel cazzo di Xerat wow wow che è l'hanno 5600 danno da me ha fatto solo 2800 mamma mia soltanto quel pochino che basta il sogno ragazzi il sogno il sogno madonna mi pare che c'era un'altra spada vero? quindi si Barco puoi fare essere sotto i mei che avevo avuto tipo 10 mene che ha detto? e io ne avevo 20 in meno ma porco cazzo si ma non ne avevo proprio no 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 ok si chi sarà l'ultimo membro del mio team? da me c'è Miss Fortune e poi ci sarà qualcun altro tipo ne so quello che mi capita ho un altro sciacolo per la mia collezione di sciacolo privato un altro sciacolo per la mia collezione vabbè aspettiamo prima di dargli questa cosa aspettiamo un attimo no dovevi dirgli fanciullo tanto a te non mi servi ah si va va andate mie mie eroi miei go andate combattete sono fiero di te Gohan Ottimo lavoro ragazzi ottimo lavoro ottimo lavoro Junks eh ok dai questa è fatta questa è fatta basta ho toto pure i kingdom però non mi serve a niente per il momento quindi vabbè ti prendo però solo per questa volta eh infatti vediamo che poi si prende il licco mi ha preso una volta vabbè ho fatto ho fatto Gail al 2 e poi ho fatto Lux al 2 adesso Gail se prima era faceva 5.000 danni adesso ne fa 10.000 contro chi sono ma si è arreso ho vinto perché oddio ho vinto un game ragazzi ho vinto perché un tizio si era reso un tizio si era reso e quindi mi ha dato la vittoria creduta non ce la fai ma è sbendata ma non ha vissuto con un HP nessuna vissuta con un HP con la prova non so trovo nessun irlia nessun altro beh che non ce l'hanno tutti quasi è assurdo trovarlo a me serverebbe un Oxerat e anche un bel livello un bel level up al 9 salto al 9 sono più tranquillo allora tu devi andare qui e tu devi andare qua nella follia però però non la provi madonna io che ho trovato assurdo oh finalmente sei salito al 2 tu va bene Johnny è il momento di farti diventare il signore di un nuovo mondo anche tu Gail arrabbiati vabbè devo solo 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 il livello trovare un altro Oxerat e basta e due Miss Fortune già che ci sono ormai me ne prendo pure due Fortune e due X Minim anche quel team è molto impreciso il mio mi serve ancora un bel po' di roba ma Heyla Andrea ho sbagliato c'è un personaggio non c'è truncazze in che senso c'è una cosa in più ma perché hai fatto Darkstar ma è mio c'è c'ho anche Valchia c'ho anche mercenario ma non mi scassare e non ho sciacopotenziato non mi scassare il Mastery va ti prego ti prego tutti i tanni li sta facendo Gail è bellissimo giocare con Kale fatta a cazzo perché non l'ho trovata a cazzo di cane proprio e continua a trovarla a cazzo di cane no non mi esce proprio ricerchi ricerchi Kale quante ne devi trovare una vai farla al due non guardare la mia panchina a me due Mastery serve vabbè lo vendo perché devo dare una mano devo andare una mano a l'aiuto di ecco ah no vabbè sei l'aiuto di ecco ah ok sei l'ego allora vai l'aiuto di ecco per cosa volevi usarlo scusa per fare un personaggio al due cazzo lo devo trovare praticamente no oddio mi ha fatto troppo di dare quello che è successo ma che palla ti avrei fatto a tre almeno la faccio prima di morire addirittura tu fuori tu dentro ho messo darmi al nuovo salgo pure di livello non ne trovo più due spada 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 mi ha detto questo al due sarebbe stato molto meglio molledetto giro buo gustavi di quella troia ma ce l'hanno fatto non ha nessun senso, non ci possiamo fare cioè ero morta di nuovo, ho fatto una perché sono morti tutti quanti, ha dato un colpo e si è fullata di colpo ma perché c'era la pistola, la max track e certo, perché tanto devono può asciuttare qualsiasi cosa io sono rimasto di scemo, di giuro ho detto vabbè ce l'hai fatta e ha ucciso Gail, e invece no, non l'ha uccisa perché hanno ucciso gli altri due prima, si è strapotenziata e si è fullata in un colpo assurdo, assurdo oh cristo, posso fare il sogno, oddio, oddio dai finalmente ero fortissimo Marco, Marco l'ho fatto, Marco, Marco, guarda questa è la nuova? si oddio vabbè ma basta oh finalmente a posto manca solo una misfortune direi come fai a essere io madonna madonna c'è non lo so non li ho mai fatti non li ho mai fatti al 9 mai fatti al 9 ma funziona infatti immagini oh mio dio 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 devo beccare, è l'unico che non posso battere non posso, c'è per un pelo, che cazzo si, in effetti si, per un pelo ci sono rimasto pure io, babbo c'è proprio un pelo di cavallo un pelo di cavallo, no un pelo piccolo io ho detto, vabbè io infatti ho detto ma io ero lì a dire vabbè ce l'ha fatta capito per questo ho detto, micchia ce l'ha fatta invece no capito, no non ce l'ha fatta comunque adesso vi dovrebbe uscire sia Kyle che Irelia si, in effetti si perché adesso lui è fuori quindi dovrebbero uscire guarda che questo c'è ogni volta rimango spiazzato mamma mia è vero che Irelia non fa gli stessi danni ma anche se comunque ma neanche non solamente no non mi fa proprio ah perfetto bisogno di soldi quindi effettivamente nerfare Irelia la rende inutile nel Dead Master si praticamente si scassa nel Dead Master praticamente si ah ne fanno i baffi e i danni cibernetici una cosa già l'hanno fatto ma anche tu come fai a campare ma dice a me si perché io sono dovuto morire che so a quanto pare sono più forte ma quando mai madonna non scherzare madonna te l'ha detto ma non scherzare proprio te l'ha detto il gioco lo dice non tu non lo puoi dire ora vediamo quando becchi donno a me per poco mi ha battito anche se aveva Darkstar oh madonna mia ma che scherzare non ho mai fatto Darkstar al 9 mai ancora cioè non pensavo di non è uscito adesso puttana tutto 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 vabbè se ho fatto un giro del cazzo tanto se muore Dark mi sforzo se muore mi sforzo in Jack Seraph uno uccide tutti per forza non puoi non puoi sbagliare 9 Darks carcellano senza averli il giro eh ma non esistono 9 Darks non esistono 9 Darks no sono 7 no sono 7 devi fare per forza con le spadole eh eh che vabbè vabbè praticamente si cioè non è detto dovevi fare ancora Shackle 3 devo fare ancora Shackle 3 che non è inutile ma non è inutile ma non è inutile non è inutile roma non è proprio ma non è inutile Nei soldi gratuiti Con una gratuita mi faccio Ho 18 vittorie di fila Voglio fare che dov'è quella Una volta su Però Darono Non l'ho mai incontrato Mamma mia che schifo che devo vedere E curva pure guarda che troia puttana e pezza di merda Ma anche curva solo quando ci sono gli amici attaccati No curva quando muoiono i campioni e cambia mira C'ho le lacrime in giù Madonna Madonna Mi spartano altre Non posso mai fare quella Vabbè non ti serve tanto Fa sciolta già adesso In effetti Gli do un po' di resistenza dai Ti faccio faccioltare prima E' vero l'ha preso un bel litro l'ha preso No no Ma perchè basta Vabbè sto rerollando tanto bella Ehm Quale l'oggetto per questo 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 Quello ho ancora un aiuto di leg Almeno Ok Ok da controdaro Vabbè come fa C'erano un easy win Tranquillo Dai forse Quello che ha sugo Quello che ha sugo Madonna mia Ma infatti manco muoio mi dà C'è non si attiva Infatti non si attiva neanche Tristezza C'è manco provato Con basta Dario No mamma c'è parola Ammazza mi ti prego Basta Non voglio più via Avrei fatto Kyle al 3 anche Però no Basta Vabbè io sto GGQP guys Ehm GGQP Sì vabbè ma siete in palchia eh C'è scritto che sotto al 5% pure le spell fanno Per questo ho fatto sta combinazione Perchè ho visto che c'erano Che Che Kale E Miss Fortune Ci sono solo 3 qualche Eh lo so però C'è io Kale l'ho presa già con Io ho ragionato già sul fatto che Prendevo Kale e poi Miss Fortune Non ho La cosa che non mi aspettavo E' che di fare Miss Fortune Darkstar E' l'unica cosa che non ho pensato Ho vinto Ho battuto tutti Qua nemmeno il mostro dibatteva guarda E chi è il mostro I ragazzi Troppo forte E non avevo neanche Shaco fatto Basta che uno gli schizzavo la facevano scomparire con termina di vita che si ritrova Si E uno Shaco oltre con gli oggetti per No già il mio mostro se l'ho distrutto Un Shaco oltre Si esatto Però si full No Ma Shaco senza idemela è il mio ragazzi Si Stavo guardando Bello 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 Mi sono divertito in un botto